cari amici d'olfo shooters porto di strumenti atti ad offendere nuova interessante pronuncia della corte costituzionale nella video lezione di oggi vedremo la sentenza della corte costituzionale numero 139 del 2023 le premesse materia diritto delle armi di pubblica sicurezza l'ambito è quello della legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 18 aprile del 1975 numero 110 porto abusivo di strumenti atti ad offendere le normative di riferimento sono all'articolo 4 della legge 18 aprile del 75 numero 110 gli articoli 25 e 27 della costituzione il tribunale di lago negro con ordinanza si preoccupava di sollevare questione di costituzionalità in relazione agli articoli 3 25 secondo come 27 terzo comma relativamente all'articolo 4 secondo comma prima parte della legge 110 del 75 che vieta di portare fuori dall'abitazione o da pertinenza della medesima bastoni muniti di puntale acuminato strumenti da punto da taglio atti ad offendere mazzi tube catene fionde bullone sfere metalliche eccetera nella parte in cui non richiede ai fini della punibilità del fatto la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato previsto dalla norma censurata in quanto a seguito di un controllo stradale era stata trovata in possesso di una roncola qualificata impropriamente nel capo di imputazione come macete della lunghezza di 40 centimetri di cui 10 di manico strumento da punto da taglio del cui porto l'imputato non aveva fornito adeguata giustificazione il tribunale dal canto suo nel momento in cui aveva denunciato il presunto vizio di legittimità costituzionale ne sottolineava il profilo della necessaria offensività del fatto assente o particolarmente deficitaria nei casi in cui il soggetto agente pur non avendo potuto o saputo esternare il motivo del porto stesso abbia operato in contesti dei quali non traspaia il pericolo di offesa alla persona o della funzione rieducativa della pena certamente difficilmente attuabile nel momento in cui il soggetto agente sia punito per un per un fatto non concretamente offensivo la decisione della corte costituzionale in sostanza quindi la corte costituzionale ha rigettato la questione sollevata dal tribunale sostenendo come nella sostanza si debba considerare come legittimo il dettato normativo dell'articolo 4 comma 2 prima parte della legge 18 aprile del 75 numero 110 dove non prevede quali elementi tipicamente strutturali del reato quella presenza di circostanze di tempo e luogo atte a prefigurare un rischio di uso lesivo nei confronti della collettività tutta in effetti proseguendo la lettura della sentenza i giudici si preoccupano di sottolineare come il legislatore abbia scelto di adottare un approccio caratterizzato da un maggiore rigore nei confronti del soggetto agente il quale abbia portato fuori della propria abitazione delle sue appartenenze un'arma impropria cosiddetta nominata e che sebbene di portata potenzialmente meno lesiva di quelle possedute da alcuni strumenti invece innominati esempio bastoni martelli secondo massimo empire che è più frequentemente rivolta all'uso illecito la consulta poi fa una differenziazione importante tra la categoria della offensività in astratto ed in concreto la consulta in tal senso ha ritenuto assolutamente ragionevole applicare l'offensività in astratto in quanto ritiene in effetti molto pericoloso il fatto che un soggetto possa portare fuori dalla propria abitazione un oggetto atto ad offendere senza riuscire a giustificarne il motivo in tal senso quindi si ragiona nell'ottica di un pericolo non già concreto bensì presunto relativamente invece all'applicazione della offensività in concreto la corte costituzionale si preoccupa di sottolineare come sia da lasciarsi all'oculato apprezzamento dell'interprete delle leggi quanto questi è chiamato ad applicarla